Maledetto, un maledetto! Un culo! Un culo! Oh Roby, meglio eh? Molto meglio! Beh, io ci stavo riuscendo senza volere! Se qualcuno mi prende la provo! Cos'è Giulio? Vieni su! Vieni su! Vieni su! Vieni su! Vabbè, mettiamo lì! Vieni su! Spostati! Oddio, vai fuori! Spostati! Schiaccialo! Schiaccialo! Dai che deve arrivare il Marco! Dai che deve arrivare il Marco! Ah sì, Marco! Sta tirando via il giubbetto! Sta prendendo le vitamine! Ma dove vai? Vito! Devi dargli di più! Anch'io ho fatto uguale! Io ho visto il ceppo chiuso! Non devi chiudere il ceppetto Vito! Non devi chiudere qua! Ho sbagliato anch'io uguale! Ho visto il ceppo chiuso! Sono rimasto qua! Tu invece hai visto il ceppo! E' aperto! Si è sparato fuori! Non vedi che se non mi ha giù un botto! Eh, non vedi che se non mi ha giù un botto! Sta facendo merenda! Allora, a pensare la parte alla prima っi sempre ta だagnerà! Il corice! Non puerto? La prima... Oh! Grazie.